Get ready for the weekend E siamo in chiusura di quest'altra puntata di Weekend ed Intorni che si avvia al decimo anno di attività noi siamo nella palestra Body House di Silvi Marina che è affollatissima con noi c'è Pino che vedo molto molto impegnato con tanti allievi e allievi qui della palestra Eh sì, con i ragazzi e le ragazze che stanno cercando di impegnarsi in prospettiva della stagione estiva Allora bisogna soffrire, bisogna soffrire un pochino però poi in estate si arriva in forma Invito tutti quanti diciamo a intraprendere questa che io Questa piccola insomma fatica insomma dai iscrivetevi, venite, tornate Una fatica di vita che secondo me fanno fatica ad abbracciare però poi una volta che iniziano a vedere anche i risultati poi vanno avanti Allora grazie Pino, l'invito ovviamente a venire qui nella palestra Body House di Silvi Marina Stefano, l'invito anche per te e per me ovviamente Sono anni che ce lo fanno questo invito gli amici della palestra Body House Vedremo di fare nel nostro meglio ma anche perché abbiamo notato anche i nostri colleghi insomma DJ che pongono un po' più di trippetta quindi insomma Sono l'unico a stare in forma Sono l'unico DJ in forma Siamo un po' invidiosi, scherziamo Però venite qui da Body House per tenervi in forma con tanti corsi, tante sorprese E poi trovate loro che sono simpaticissimi Alla prossima vi chiede dintorni per contattarci come sempre 085 29 62 30 Alla prossima vi Those Grazie a tutti.